Una mostra fotografica della storia di San Pietro villaggio per ricostruire e promuovere le radici della propria identità locale. In occasione delle festività del patrono, la comunità di San Pietro guidata da associazioni e dal parroco Don Luca Tufano ha organizzato l'iniziativa volta a diffondere la storia di un borgo ultramillenario. Il comitato festa patronale ha voluto coinvolgerci in questa avventura, ha voluto coinvolgerci per portare un'altra volta all'attenzione di tutte le memorie, tracce di memorie di questo paese, molti personaggi che andavano, molti personaggi e luoghi che si stavano perdendo. E quindi abbiamo pensato di allestire una mostra fotografica che possa richiamare questi luoghi e questi volti e poi abbinare un convegno sempre sullo stesso tema. Al convegno abbiamo pensato di invitare lo storico ufficiale, diciamo anche se ancora non... lo storico ufficiale del paese, della comunità di San Pietro, il dottor Francesco Donnarumma è una storica più giovane che però ha fatto un grossissimo lavoro sui libri parrocchiali perché dovete sapere che la parrocchia di San Pietro ha libri parrocchiali che risalgono al XVI secolo e che sono praticamente l'anagrafe sia di vita che di morte di tutto il villaggio. Questa dimostrazione che questo pezzo di Scafati aveva una storia molto antica, una storia millenaria che merita di essere ricordata e merita di essere ricordata soprattutto adesso quando il paese ha perso parte della sua identità. Lo sviluppo del territorio attraversato da Re e Santi sono stati alcuni aspetti sottolineati dai relatori del successivo convegno che ha visto in prima fila gli storici Francesco Donnarumma e Anna Barone, i quali hanno potuto accedere a un gigantesco patrimonio storiografico da tantissimi documenti fino alle foto dei volti e dei luoghi del borgo degli ultimi cento anni. Sono partito dalla fine del X secolo cercando la storia di questo oggi villaggio diciamo che dal 1200 errutti anni era un'università come l'università di Scafati e come tutti i paesi d'Italia che si chiamavano università e lo è stato fino al 1806 cioè fino alla promulgazione delle leggi murattiane dopodiché fu accorpata Scafati. Quindi il mio lavoro è quello di cercare negli scritti dove ci sono notizie possibili consultando biblioteche, archivi, testi e riproducendo a spese mie tutto quanto era possibile. Ricordare l'ultimo abbate che c'è stato e che è deceduto nel 1959 per il cinquantesimo anno della morte organizziamo una bellissima mostra fotografica con un catalogo ancora esistente e con un'affluenza di persone che fu un evento stupendo e riuscitissimo. Spero che questa sera si ripeta la stessa cosa provando noi organizzatori le stesse emozioni. Vogliamo riscoprire e appropriarci delle radici delle nostre origini perché è sul passato che si costruisce il presente e sul presente si progetta il futuro.